amici benvenuti a un nuovo episodio del punto di vasta oggi voglio parlarvi della funzione di auto reframe che sta per uscire sulla l'ultima release di premiere pro uno dei problemi sempre più comuni che hanno i videomaker è quello di poter adattare il proprio contenuto video alle piattaforme tra loro molto diverse in particolar modo siamo sempre un po combattuti tra il girare un video in orizzontale o in verticale se andiamo a dare un'occhiata alle statistiche di accesso ai siti web si scopre che in realtà ormai ben oltre l'ottantacinque 90 per cento del traffico viene generato dai smartphone ed è per questo motivo che noi vediamo su instagram video quadrati o video verticali via dicendo ma il videomaker normalmente non lavora in questo modo il videomaker lavora con una fotocamera una videocamera e produce immagini in sericinoni rettangolari però poi il cliente può tranquillamente richiedere di portare questo contenuto sui social e ovviamente non sapendo questa problematica si aspetta che l'adattamento sia fatto in maniera del tutto immediata e quindi è un po complesso fare questa operazione perché bisogna fare delle mascherature bisogna modificare il taglio dell'inquadratura bisogna capire cosa rimane dentro o fuori perché quando trasformiamo un'inquadratura orizzontale in verticale perdiamo irrimediabilmente qualcosa e allora appunto vista questa problematica la funzione di autoreframe di premiere risulta molto comoda perché in pratica fa ciò che dovremmo fare noi manualmente lo fa in maniera tutta automatica è un plug in quindi fa parte degli effetti e si può tranquillamente trascinare sopra la clip interessata ha un algoritmo che in grado di riconoscere qual è l'oggetto diciamo che idealmente andrebbe lasciato al centro dell'inquadratura quindi se c'è una persona che sta correndo su inquadratura larga viene spostato fisicamente in maniera automatica l'inquadratura finché la persona rimanga sempre al centro dell'inquadratura sicuramente poi vedendo diciamo il video di preview tutto funziona molto bene poi all'atto pratico bisogna sempre capire come funzionano queste cose però è interessante vedere come strumenti come premiere che sono stati progettati per i videomaker iniziano a fare l'occhiolino al social quindi a tutte queste nuove forme di comunicazione che non sono più solo il classico rettangolo prodotto dalla videocamera della fotocamera ma vanno si rivolgono soprattutto agli utenti di smartphone la cosa interessante è che guardando il preview diciamo del plugin però non è ancora uscito si vede che è possibile intervenire sia sulla singola clip ma anche a livello di sequenza per esempio se noi abbiamo generato un'intera sequenza che è ovviamente un montaggio completo con testi immagini e quant'altro video si può trascinare direttamente praticamente l'effetto non più sulla singola clip ma su tutta la sequenza questa funzione genera automaticamente una seconda sequenza quindi non va impattare su quella precedente e tutti gli elementi di quella sequenza vengono vengono auto diciamo rinquadrati e non solo anche le scritte i testi vengono riconformati alla misura della che abbiamo scelto possiamo chiaramente scegliere dei preset quadrati verticali vi dicendo sono quelli classici quindi sicuramente un ottimo un'ottima funzione che dà una grandissima mano a chi di noi si occupa di produzione video ma deve anche subito andare sui social per ora è tutto con questo nuovo episodio del punto di vasta ai prossimi episodi